Se solo i 9 potessero... Qualora non abbiate acquistato Armin Huxur o non abbiate troppato esotico, insomma potrebbe tornarvi molto utile. Come iniziare quindi l'impresa per ottenere l'île booleana Gemini? Beh è molto semplice, basta recarsi da Petra e accettare la sua impresa. Iniziare quindi a svolgere i vari compiti che essa ci dà. Piccola parte ve l'abbiamo già spiegata nel video che trovate in sovraimpressione riguardo a come trovare i corrotti in pattuglia, in particolare i corrotti per i cronoframmenti e per i campioni corrotti appunto. E quindi proseguire le imprese per i vari pianeti in quanto Petra vi chiederà di trovare i campioni corrotti sulla Terra, su Venere e su Marte. Una volta finita questa prima parte, beh Petra vi porterà da Varix e voi dovrete fare appunto le imprese di Varix, il quale vi porterà ad affrontare i caduti casato dai lupi su Marte. Non è difficile da fare in quanto vi chiederà semplicemente di andare nella zona delle distezze rubicone, per intenderci quella lì dello spawn iniziale di Valus. Una volta finito questo passaggio, insomma dovrete proseguire via via con l'impresa di Varix e poi tornare di nuovo all'impresa di Petra che vi porterà nella corte di Horix, insomma cosa fare, non è per nulla così complicato. Una volta che avete finito con tutti i corrotti, i cacciati e i lupi, arriverete al punto che Petra vi darà come ricompensa un'arma. Quest'arma è la booleana Genemy, ovvero un fucile da ricognizione, come già detto in precedenza, ovviamente esotico. Attenzione però perché molti dicono di non aver ricevuto quest'arma. Alcuni suggeriscono di attendere il reset di Petra e poi apparirà il booleana Genemy tra gli oggetti smarriti. Quindi qualora non abbiate trovato ancora il booleana Genemy, nonostante avete fatto già tutte le imprese dall'inizio alla fine, insomma assicuratevi prima di tutto di aver fatto sia quelli di Petra che quella di Varix e poi controllate appunto se non ce l'avete dagli oggetti smarriti o se Petra non ha ancora fatto il reset. Altri dicono che dipende invece dal grado di Petra, però noi consideriamo questa fonte diciamo meno attentibile in quanto se un nuovo giocatore è iniziato adesso a giocare a Destiny, insomma è difficile che, ad esempio avendo Petra livello 0, livello 1, non possa droppare i booleana Genemy. Insomma suona abbastanza strano, quindi probabilmente la voce più attentibile è quella lì che dice che in realtà si trova poi negli oggetti smarriti una volta che ci sarà il reset di Petra. Quindi ragazzi per oggi questo è tutto, noi speriamo che questo video vi sia stato utile, vi sia stato utile, invitiamo a rilasciare un bel feedback e noi ci sentiamo con un prossimo video. Ciao ciao!